Beatrice Valli ha partorito, sul nome ha prevalso la linea Fantini, i dettagli e le foto della figlia. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, oggi affermata influencer, ha accolto il suo quarto frutto d'amore, l'annuncio. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, oggi affermata influencer. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, oggi affermata influencer. Cristina Marino, Francesca Del Taglia, Valentina Ferragni, Martina Lucchena, Aurora Ramazzotti, Francesca Sofia Novello e Luca Vecil sono stati i primi a salutare l'arrivo della piccina. Finalmente, benvenuta piccolina, il commento della sorella Ludovica Valli a cui si è aggiunto quello di Eleonora, l'altra sorella di Beatrice. Chi pensava che Ludo non si facesse sentire per via di non meglio precisate frizioni con Bea ha dovuto ricredersi. Beatrice Valli, la gravidanza più difficile. L'ex corteggiatrice di uomini e donne, oggi influencer di successo, è diventata mamma per la prima volta quando non era ancora maggiorenne, accogliendo Alessandro Bovi. Dopodiché ha partecipato a uomini e donne, ha incontrato Marco Fantini ed ha avuto altre due figlie con l'ex tronista, Bianca e Azzurra. Infine Matilda Luce. La dolce attesa da poco conclusa è stata la più difficile. In questi mesi Beatrice ha raccontato a più riprese di aver dovuto affrontare diversi problemi di salute. Forti nausee, intense e dolorose fitte, bruciore alla pancia. Oltretutto, è anche capitato che a un certo punto non ha più sentito la bambina muoversi nel ventre e, per questo, è corsa in pronto soccorso. Fortunatamente, non è stato riscontrato nessun problema, ma per sicurezza i dottori hanno voluto fare quest'esame per controllare il collo dell'utero e le hanno consigliato di riposare il più possibile.